Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 18 maggio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Oggi comanda Plutone. Il potere voi l'avete sempre combattuto, ma oggi con il re della ricchezza e degli abissi dell'inconscio piazzato nel segno, vi sentite un po' disorientati. Da un lato la seduzione del soldo e del prestigio, al quale nessun essere umano resta immune, dall'altro la ribellione verso questi imperativi che hanno trascinato il mondo al collasso e la politica nel fango. Ecco la ragione di questo sabato così contraddittorio, una vera quaresima dello spirito, in lotta tra bene e male, aderenza agli ideali e fascinose tentazioni. Nuove complicazioni vi arrivano dal segno conflittuale del toro, i cui confini, già avarcati anni fa dal vostro astro guida Urano e di recente anche da Venere e Mercurio, il monello tra gli dèi, che appena arrivato riporta subito in luce tutti gli scheletri nell'armadio, i ricordi più urticanti, i conflitti irrisolti. E se non li affrontate razionalmente a riproporveli provvede la luna puntigliosa in vergine, nel settore più misterioso dell'oroscopo. Benone le finanze, voi siete sempre in controtendenza e ora che il mondo è alle prese con problemi di pecunia, voi la snobbate, ma intanto visitate agenzie immobiliari in cerca di un appartamento in vendita. Fedeltà in amore, buona intesa e dialogo nella coppia. Uomo attraente, buono, fedele, generoso e sincero, che ispira simpatia e fiducia. Potrebbe essere l'innamorato, il marito, il partner, il fidanzato, l'amante perfetto. Obiettivi concreti raggiunti o raggiungibili, progetti interessanti che si realizzano. Stabilità grazie a un uomo che incontrerete e che vi darà sicurezza e aiuto. Aiuto da genitori e parenti, da superiori e da colleghi esperti e fidati. Imparerete presto a gestire una situazione che all'inizio vi sembrava insormontabile. Ce la farete. Possibilità di chiarimenti tra innamorati ed ex, non tutti saranno proficui ma alcuni o potrebbero essere determinanti. Positività sul lavoro soprattutto in mattinata. Non confidate alla prima persona i vostri problemi e le vostre difficoltà, non solo non riuscirebbe a capirli ma potrebbe mettervi in serio imbarazzo non mantenendo qualche segreto che per voi è prezioso. Se pensate che per risolvere una questione che vi sta a cuore non occorra la forza di volontà e un pizzico di coraggio vi sbagliate. L'amore si lascia desiderare. Cercate il dialogo con l'altro per chiarire la situazione altrimenti le acque si confonderanno ancora di più. L'amore oggi avrà una battuta d'arresto, solo i nati di giovedì potranno beneficiare di momenti di tenerezza e di sintonia con la persona amata. Fate attenzione a qualcuno che trama alle vostre spalle. Non abbiate timore di affrontare questioni spinose con il park. Vedrete saprà capirvi. Cambiate qualcosa nella vostra vita, soprattutto quelle che ritenete vi mettono a disagio o possano essere fonte di problemi. La luna altrimenti potrebbe giocarvi brutti scherzi. Non trascurate la salute. Mangia più frutta e verdura. Andrai alla ricerca di coccole e relax. Cominciate questa bella giornata di primavera pervasi da un luminoso ottimismo. Questo sprint iniziale vi mette in uno stato d'animo espansivo aprendovi la strada di occasioni fortunate che Marte nel segno amico dell'Ariete e Plutone nel vostro segno vi porgeranno. In particolare se festeggiate il vostro compleanno dal 21 al 28 di gennaio, avrete modo di respirare un'aria nuova, capace di farvi sentire completamente rinati e poi anche farvi ritrovare trasformati intimamente. Con Venere e Urano in quadratura, casa vostra, anche se elegante e confortevole, stasera vi va stretta. Avete voglia di ambienti diversi, innovativi, trasgressivi, ma con Saturno sparagnino in seconda casa e la luna in vergine, altrettanto parsimoniosa che gli si oppone, vietato fare voli pindarici, perfino in sogno. Sì invece alla partenza lampo subito dopo il lavoro alla volta della casetta di vacanza, costo quasi zero, a parte il carburante, natura e aria buona, se poi ci coltivate anche l'orticello avrete ottime insalate e verdure fresche di stagione. Amore ed Eros Tesissimi, forse preoccupati o solo timidi, soprattutto riguardo i sentimenti, che vorreste tenere per voi senza esplicitarli, non ha parole almeno. La voce la usate solo per beccarvi in famiglia o coi vicini, sotto sotto siete tipi affettuosi, ma guai a prendervi per il verso sbagliato, il ribellismo acquariano reclama sempre la sua parte. È la luna, pur neutra in vergine, la regista della vostra fortuna nei sentimenti, il luminare femminile dirige le vostre scelte su una tattica studiata verso chi vorrete conquistare, evitandovi inciampi nel caso doveste incorrere in decisioni sbagliate o abbagli. Un passionale Marte, invece, vi farà vedere dove si celano le emozioni autentiche, aiutandovi a comprendere chi vi fa veramente battere il cuore. Questa è ipotesi più in evidenza se siete nati nella prima e nella terza decade. Lavoro e denaro? Improprio in un'impresa ritenuta da tutti impossibile dimostrate di saperci davvero fare, infatti cominciate a guadagnare o quantomeno a pareggiare i conti, altro che rivoluzionare i nemici del potere, quello altrui caso mai, ma quando il ruolo di leader lo impersonate voi, la musica cambia, e come. Fiducia in voi stessi e nelle vostre potenzialità, effettivamente ben riposta. Una committenza che può interessare la vostra azienda chiama in causa direttamente le vostre abilità e competenze specifiche. Novità in ufficio vi favoriscono. Saturno in buon aspetto col vostro segno, dal buon vicino segno dei pesci, vi dona l'energia e la voglia di provarvi nella nuova impresa, specie se siete della seconda decade. Benessere. Non vi curate abbastanza, vivendo in una dimensione quasi onirica, dove sonno, pasti, ginnastica e cure mediche sono un optional al quale preferite non pensare. E invece vi tocca, causa un indolenzimento, una caduta, un sintomo non grave ma fastidioso, anche voi vi arrenderete rivolgendovi al medico, bisognosi di parole rassicuranti, ma insieme a queste anche una lezioncina, dovete imparare a prendervi cura di voi stessi e a volervi bene. Per lei, strano ma vero per voi, figlie del futuro, tornare al passato con questo compiacimento, frugando tra ricordi dell'infanzia, alla ricerca di persone, paesaggi, situazioni, profumi ormai tramontati da tempo. Scavi archeologici nella preistoria della vostra vita. Per lui, giornata mondiale contro l'omofobia, non vi riguarda personalmente, a voi piacciono le ragazze, tuttavia convinti sostenitori della libertà, non tollerate che qualcuno decreti arbitrariamente chi si può e chi non si può amare. Colore delle emozioni, vinaccia. Barometro dell'umore, temporalesco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 5, finanze, 6, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.